ciao a tutti ragazzi benvenuti a questo video oggi ragazzi giochiamo a brawl stars ed è un gioco molto usato da molta gente quindi ragazzi ci divertiremo iniziamo a farvi vedere un po' dei miei brawler perché è la prima volta che giochiamo a brawl stars in video quindi ragazzi possiamo anche iniziare a fare il video ci torniamo subito al video e ci vediamo subito allora ragazzi di brawler usiamo frank perché è un bravissimo brawler e poi hanno fatto una nuova cosa ragazzi una nuovissima cosa che mi piace molto e allora ragazzi è che possiamo usare tutti i brawler e infatti tra cinque giorni esce rosa e guardate prova andiamo a provare subito il rosa e so già le abilità tutto perché l'ho già provata e vabbè credo che sia carina per voi non ho mai visto però guardate è veloce anche ricaricando la ulti e la ulti invece la ulti scusate la ulti è così che quando guardate gli arriva uno scudo lui la spara ma non gli fa nulla sapete perché perché guardate adesso ve lo faccio vedere perché questa palla che intorno è uno scudo guardate 100 100 ma lei non gli fa nulla quindi io mi ricarico la ulti e andiamo ad uccidere loro e poi è molto importante perché ne prende 3 insieme mi piace mi piace mi sta piacendo tanto questa brawler vabbè ragazzi andiamo a fare le partite normali perché non ci piace fare solo questo ok allora ah e ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un pollicione in su e poi di entrare in questo clan chiede di un mio amico l'ha creato lui e non è fortissimo però dai vabbè va bene lo stesso guardate il primo sono io si chiama kree e abbiamo 1700 e 1671 trofei ragazzi per favore entrate perché i trofei necessari sono zero il tag del club è hashtag 8 j q q l q i lunga q quindi è aperto quindi ragazzi vediamo il permesso di entrare e iniziamo subito a giocare facciamo una singolo ragazzi vi avviso non sono bravo a giocare a questo gioco allora prendiamo subito queste tre cassettine e poi mi piace di frank che ricarica subito quindi prendiamo questo power up prendiamo anche questo se ci riusciamo prendiamo anche il quarto prima 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 no fa ecco vabbè l'abbiamo preso lo stesso meglio 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 ok buono buono stiamo facendo un bel game non è vero perché abbiamo già perso quindi ci ci boga tantissimo ci toglie un botto e ragazzi questo game credo che sia perso perché stava andando bene fino a poco fa però guardate proviamoci proviamoci no perché guardate c'è gente che mita io odio quando vittano non voglio che mi toccano come dio nostro internet no abbiamo vita sempre in 4 da 8 in 4 però 3 è tanto adesso facciamo in due perché qua uccidiamolo ok io non sarò mai ecco perché mi mi sta laggando no allora ragazzi terzi va benissimo più 4 va bene ragazzi facciamo la seconda partita e basta perché ragazzi sì sì perché blue stars deve fare una specie di aggiornamento adesso facciamo un po roba al salto ok usiamo a usiamo a penni forte non mettere penni due oggettoni due oggettoni e andiamo a giocare questa ok va bene guardate lì col nabbo uccido aspettiamo che arrivi qualcuno ma perché mi lagga non mi piace quando mi lagga no non mi piace per niente per niente per niente eccolo 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 ok va bene va bene va bene almeno tre minuti dobbiamo almeno un minuto guarda al massimo perché però perdiamo un minuto la urti devo ricaricarmi eccolo eccolo ucciso ok va benissimo stiamo andando bene niente male ok la urti la urti la urti la urti caricata per il robot un minuto e ventisei già quindi va bene mi piace condividete questo video ragazzi prima mi sono dimenticato di dirvelo guardate questo è già morto per stanzione alla torre sono morto peccato 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 anche lui siamo morti perché sono rientrato e c'è ancora la mia torretta quindi buono buonissimo certo bravissimi secondo qua tiriamo tutti questi bravissimo il primo ragazzi il primo sta devastando il primo è tra i più forti se devo scegliere il migliore è lui è stato lui oh non sono riuscito a mettere la torretta che pò il pepere ok adesso non mettiamo tanto pac torrettina e si va a Italia ho due minuti e trenta va benissimo 26 mi danno vabbè ragazzi grazie per aver visto il video vi ringrazio lasciate un pollicione in su iscrivetevi al canale e visto che ci siamo perché non apri anche questa cassa vero ragazzi un caricamento niente niente peccato peccato dai vabbè ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video di Brawl Stars domani esce alle 6 ok ragazzi quindi andate subito a vederlo domani ovviamente perché domani è Pasqua ragazzi eh quindi ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video